Siamo in sezione velica, un evento ANSA 303. ANSA 303 che sono imbarcazioni particolarmente adatte a chi ha problemi di disabilità fisica perché sono facilmente gestibili, danno sicurezza e danno modo di sviluppare una serie di competenze di padronanza del movimento, oltre il fatto di stare in gruppo sociale, di fare attività, di creare nuove situazioni per migliorare la propria autostima, i rapporti con gli altri. È un modo che si utilizza proprio per migliorare gli aspetti generali della comunicazione, della socializzazione. Bene, li vedremo in mare fra poco, per cui per ora grazie alla Lega Navale Italiana Sezione della Spezia che ha organizzato questa cosa e a dopo. Grazie, grazie mille.